Tra creazioni visionarie e lavori più tradizionali è trascorsa la prima settimana del Napoli Teatro Festival Italia edizione 2012. L'apertura del festival è riservata a Robert Wilson, poliedrico regista e drammaturgo americano che ha messo in scena al teatro mercadante The Macropolis Case dello scrittore boemo Karel Čapek. Una realizzazione magnifica, affidata alla Compagnia del Teatro Nazionale di Praga, tutta giocata sullo svuotamento emotivo dei personaggi e sullo straordinario rigore dell'esecuzione, sapienti scelte che hanno liberato il testo del 1922 dai suoi vincoli epocali, consegnandolo con acuta pertinenza ad una dimensione di favola senza tempo. Al Teatro San Ferdinando Davide Iodice ha rappresentato il suo audace esperimento drammaturgico Un giorno tutto questo sarà tuo, riflessione poetica sul passaggio di consegne fra generazioni e più esattamente fra quella generazione dei padri che ha vissuto e agito il 68 e quella dei figli che è nata negli anni di Piazza Fontana e dello Statuto dei Lavoratori. Un'interessante scoperta, almeno per il grande pubblico italiano, è venuta dalla sezione dedicata alla drammaturgia argentina. Claudio Tolcacir, giovane autore e regista di Buenos Aires, ha messo in scena al Festival una trilogia di commedie satiriche e brillanti, concentrate sulle patologie delle relazioni umane nei microcosmi del lavoro e della famiglia. I tre lavori hanno suscitato una forte empatia negli spettatori napoletani, anche per merito dell'inappuntabile esecuzione dei giovani interpreti sudamericani.